Gianni Morandi, L'Alegria insieme a Giovanotti, 8 e 15 minuti, venerdì 26 gennaio, Good Morning Milano. E siamo qui con il nostro ospite di giornata, perché è venuto a trovarci Davide Borghi. Buongiorno Davide. Buongiorno Fabio, buongiorno a chi ci segue in diretta. Consigliere del Municipio 4, giovane consigliere, la politica ai giovani, una cosa che spesso e ventieri dicono, ah, i giovani non si avvicinano alla politica. Tu sei la prova che non è così invece. Sì, ce ne sono tanti che si avvicinano, guarda, ne conosco tanti, anche chiaramente per l'età, quindi poi i giovani spesso stanno con i giovani e quindi sì, noi Municipio 4 abbiamo diversi giovani, come Paolo Democratico siamo 4-5, under 25, quindi diciamo che c'è tanta voglia e volontà di collaborare con chi ha più esperienza. Municipio 4, facci una carta topografica dove siamo. Vi dico i quartieri che facciamo prima, forse Porta Vittoria, Porta Romana, Rogoredo, Corvetto, Santa Giulia, Forlanini, Mecenate, Salomone, sono tutti i quartieri. Ci li ho tutti, ci gioco. 160.000 abitanti, forse un po' di più, comunque è una città, ecco, non è la città. Eh sì, una città è una città, zona sud-est della città, diciamo più o meno, ok, quella zona lì. Un, insomma, 160.000 abitanti, praticamente sei quasi, cioè sei consigliere di un grosso comune, forse non fosse a Milano, cioè, no? Però tutto quello che comporta non essere un grosso comune, spesso e volentieri, cioè, noi portiamo spesso questo discorso sul voglio ai municipi, forse e forse qualche potere in più o comunque qualche delega in più dovreste avere, cioè, per poter governare un po' meglio il territorio. Anche perché, insomma, potreste fare tante cose, no? Il famoso decentramento, no? Di cui tanto si parla, cioè, Gaia Romani è l'assessore dedicata che sta lavorando, secondo me, molto bene. Ma guarda, io credo che sia difficile, lo pensavo quando ho iniziato a fare il consigliere municipale, e lo penso tuttora, sia difficile delegare da parte di una giunta comunale temi e questioni che spesso poi cambiano la città. Noi abbiamo comunque delle materie in cui un budget di spesa minimo possiamo permettercelo, ci viene dato sul verde, su alcune attività, profit e no profit, a livello culturale, sportivo, quindi un po' di risorse ci sono, certo non sono infinite, non sono tante, e poi se hai calamità, come ad esempio quella del luglio scorso, in cui 5.000 alberi vengono abbattuti da una tempesta, ecco in quel caso spesso rischi che il tuo budget vada a risanare alcune dinamiche come quelle, quindi lo perdi. Un po' però il decentramento si fa sentire quando ad esempio magari la giunta centrale, anche in buona fede, non so come, prende alcune decisioni e queste ricadono sui cittadini, come ad esempio tutta la bagarra sulla 73 e i parenti, perché non è solo la 73, no? Sì, ma guarda allora, noi abbiamo avuto tra l'altro in audizione due giorni fa l'assessore Acensi, che ha delineato un buon quadro, ha delineato quelle che sono le modifiche che andranno a fare rispetto al cambiamento che c'è stato da luglio, quello che voglio ricordare, che ricordavo anche in consiglio, è che la delibera il documento, anzi sul piano di bacino, che ristruttura e riprogramma tutte le linee del 2018, quindi a Rianna Censi non c'era, c'è un altro assessore, ma indipendentemente dal colore politico, lì è stato secondo me un problema di ascolto, nel senso che noi forse avremmo inciso di più se avessimo ascoltato a febbraio le persone in un'assemblea pubblica dicendo noi non abbiamo più soldi, non possiamo più investire un milione l'anno sulla tratta della 73 dai ponti a Rianna Censi. Cioè quel pezzo di quanti chilometri sono? Ma non lo so, un paio, non lo so. Non arriviamo a quattro, diciamo, ecco, un milione di euro. Cioè fate dire cosa costa il trasporto pubblico, quindi. Poi io vorrei sottolineare però che siccome ci si è resi conto che era un tratto importante, anche perché serviva poi il parco, perché alla fine abbiamo un parco enorme che è il parco Forlanini, con un corridoio verde che adesso si può percorrere in bicicletta da San Babila fino al parco, quello che diventerà il grande parco Forlanini su cui c'è un grande progetto. E quindi la 73 è tornata a servire quel pezzo della 973 che era, adesso la 73 arriverà, aspettiamo di capire con che tempi, perché poi va riorganizzato anche tutto il comparto degli autisti, ci sono nove autisti che guidano un autobus, le persone non lo sanno ma le risorse da mettere in campo sono tante e c'è carenza di autisti. Cioè per una linea servono nove autisti a settimana? Sì, non ricordo se a settimana o al giorno, però servono parecchi. Ma sì, anche al giorno molto probabilmente sì, effettivamente. Ecco, non è una corsa sola, quindi effettivamente. Esatto, e quindi il punto è l'ascolto, secondo me parte da lì, poi alcune cose verranno rimodificate, il Consiglio Comunale su proposte del Partito Democratico ha messo quel milione che aveva come emendamento al bilancio sulla 73 è un segnale molto importante, nel senso che ci si è resi conto poi che serviva un asse fondamentale per la città, tenendo presente però che era una navetta quella, quindi che tutto l'asse Corsica 22 marzo Porta Vittoria ha usufruito di un servizio che era per il trasporto verso l'aeroporto. Quindi sarebbero partiti adesso potenzialmente sul tram 27, che prima parte la stessa tratta, abbiamo avuto diverse proteste, quindi alla fine si è andato nella direzione di ripristinare il servizio. Però ecco, credo che a fronte di un bilancio comunque che deve fare i conti con investimenti da parte del Comune di 350 milioni di euro, perché il miliardo che arriverà a costare il trasporto pubblico locale non viene coperto solo dai biglietti e da quello che il Regione e Stato mettono, tenendo anche presente che mettono meno di quello che mettevano dieci anni fa, e Milano a due metropolitane in più ha aumentato di diversi chilometri di vettura. E c'è anche una richiesta, i cittadini vogliono gli servizi pubblici diversi da dieci anni fa, anche perché gli diciamo che devono lasciare la macchina a casa, quindi giustamente vogliono che il trasporto pubblico arrivi, un po' troppo spesso lo vogliono proprio sotto casa, e lo so, per ormai forse il trend è un po' quello, bisogna fargli capire che a volte si può, a volte non si può. Continuiamo a parlare con Davide Borghi, consigliere del Municipio 4, subito dopo Francesca Michelin con Solite Chiacchere. Francesca Michelin, Solite Chiacchere, venerdì 26 gennaio, 8 e 24 minuti, qui con Davide Borghi, ancora qualche minuto prima della nostra pausa, Municipio 4, quali sono i temi caldi del Municipio 4 in questo momento? A parte questo guida del trasporto. Sì, abbiamo avuto a puntare a Nacensi due giorni fa, ieri è venuto Assessore Granelli a fare il punto su quelli che sono gli interventi alla sicurezza che il Comune sta mettendo in campo, anche con l'ausilio da qualche mese dell'ex capo della Polizia Gabrielli, che si occupa anche di coesione territoriale, oltre che di sicurezza. Allora, guarda, posso dirti i grandi progetti che noi abbiamo da qui alle Olimpiadi, sono chiaramente le Olimpiadi, perché Santa Giulia è tutta l'area su cui verterà poi i giochi olimpici invernali. Poi noi abbiamo la BEIC, per cui i lavori sono già partiti, teoricamente entro la fine del 25 dovrebbero finire anche lì i lavori, poi c'è il grande spazio dell'ex Macello, che appunto verrà ricomentito... Lì si parte adesso, si è tutto posto, no? Sì, ma sono già partiti, c'è la parte della Vicunicolo su Via Lombroso, dove sono già partiti, e lì per chi non lo conosce è un distretto enorme, è un isolato enorme, e lì tra i diritti a paesi convenzionati, uno studentato dello IED, un quartiere, un isolato che diventerà a impatto sensibilmente ridotto rispetto a quelli, diciamo, attuali. Sono tutti progetti, poi abbiamo il campus del Conservatorio a Rogoredo, diciamo che sul piatto ci sono tante partite aperte, e possiamo dire che il Municipio Quattro è vivo, la Biblioteca Calverate l'abbiamo inaugurata, sarà prima di Natale, se non sbaglio, quindi è stato un mese, un mese e mezzo, e anche lì è stato molto importante, un lavoro che ha coinvolto il quartiere, che ha parlato con le persone, per capire che spazi volessero, per ripensare la biblioteca in funzione del quartiere, che è quell'ascolto di cui vi parlavo prima sui mezzi, e per cui secondo me vale sempre la pena porsi in discussione. Ecco, l'ascolto è fondamentale, nel lavoro che fate voi, consiglieri municipali, come possiamo noi cittadini invece riuscire a capire come interfacciarsi in una maniera migliore? Cioè voi non siete l'ufficio reclami, spesso in dire invece un po' funziona così. Qual è il tuo sogno? Cosa ti auspichi? Che si riesca a collaborare in che maniera? Ma guarda, noi siamo un po' il primo gradino con cui le persone si interfacciano prima poi di arrivare al passaggio successivo, che è il Comune di Milano. Secondo me il fatto di segnalare in modo puntuale quello che non va, lo dico in modo molto semplice, ci sono dei rifiuti abbandonati in una via. Uno manda a me, manda a un consigliere, manda all'assessore che si occupa della partita, la foto con il civico, e noi lo facciamo pulire. Io credo che da una parte ci debba essere la responsabilità di chi governa di ascoltare e dall'altra quella di chi invece viene governato di collaborare. Cioè noi veramente ci impegniamo a risolvere i problemi in tempo reale. Cioè non abbiamo gli strumenti per farlo, progressivamente acquisiamo competenze. Io sto imparando molto da chi è in municipio da diversi anni perché non avendo più scuole di partito, non avendo più formazione continua, noi siamo carenti da quel punto di vista. Però c'è possibilità di collaborare e c'è sicuramente la boia e la volontà da parte della politica territoriale, voglio dirlo, di municipio 4, della maggioranza, penso anche del comune, di tornare a occuparsi delle persone. Se la politica non si occupa delle persone non capisco perché siamo qua, cosa ci stiamo qua a fare. Eh, spesso mentre infatti sembra un po' troppo che si occupi solo dei conti, sembra che siamo tanti ragionieri più che tanti politici. O delle famigiorate poltrone. No, ma su quello magari neanche tanto, quello è un po' colunquista secondo me la poltrona. Però sul fatto che ormai qualsiasi cosa è dover fare una colonna in divisioni, fare conti percentuali, scorporare, manco forse l'assemblea di condominio. Per dirti, nell'anno scorso nell'assestamento al bilancio abbiamo scelto come maggioranza in comune di mettere quello che avevamo sui centri estivi. Ora, sì, la coperta è sempre quella, non è corta, è quella. Cioè nel senso, quindi se la tivi da una parte, dall'altra parte viene via. Dice, non è corto o lunga, è quella. È quella, cioè nel senso, in un letto matrimoniale se la moglie tira il marito e viceversa. E dice calcioni o qualcuno con le piedi di fuori. Sì, quindi è quella. Poi noi cerchiamo di farla quadrare, l'assessore al bilancio e tutta la giunta comunale cerca di utilizzare le risorse al meglio. Però ecco, dire che si buttino via i soldi o dire che non c'è in modo oculato la percezione di come vado a investire le risorse, secondo me è falso. Il tema dei soldi è stato fuori anche perché adesso diventa i tretti miliardari, ma vi hanno alzato lo stipendio? No, noi no. Ai consiglieri no? No, no. Questa cosa, tra l'altro, è abbastanza singola. Perché no? Scusa. Non lo so. Facciamo la battaglia per alzare l'oggettone in presenza che consiglieri municipali. No, allora è stato questo. Gli assessori sì, però. Diciamola bene, perché sennò sembra che ci siamo, si sono alzati lo stipendio. Il governo Draghi sceglie, siccome non si trovavano figure nei comuni con pochi abitanti, di aumentare tutti gli stipendi per fare in modo che qualcuno si candidasse. Ed evidentemente, se aumenti loro, aumenta anche quelli del sindaco di Milano. E quindi adesso gli stipendi sono aumentati. Non lo so perché consiglieri municipali no. È una domanda che... Che il presidente del municipio sì. Sì, anche gli assessori municipali, anche la presidente del consiglio del municipio. Non lo so, poi sai, noi non lavoriamo per il gettone, però ecco, già se passassimo noi, veniamo pagati, io dico a Cotimo, non è Cotimo, però ne è il gettone. Cioè, se noi ci siamo veniamo pagati, non abbiamo un'indennità fissa, mensile. Quindi già magari aumentare da 11 a 14 gettone di presenza, siccome in commissione ne facciamo tanti consigli, anche potrebbe essere un'idea. Però poi dopo si grida lo scandalo alle coste della politica, senza andare a vedere quali sono quelli veri, però poi senza andare a vedere quali sono poi anche. Sì, ma la politica ha un costo. Ah, è giusto questo. E chi si candida, e chi vuole entrare in politica, sa che in qualche modo i soldi li deve trovare. Cioè, non è... La questione del finanziamento pubblico ai partiti che è finita con Tangentopoli ci ha messo nelle condizioni di dire io do il 10% e tutti gli amministratori del Paese Democratico lo danno ai circoli territoriali perché la bolletta dei circoli la devi pagare e gli aumenti li abbiamo anche nei circoli. Quindi è un tema, ecco. Però la politica ha un costo. La politica va fatta da fare a dei professionisti. Questa è una battaglia che ho sempre portato avanti. Quindi, insomma, anche lì cerchiamo di staccarci a volte da questi slogan che ci vengono raccontati del fatto di... Quale competenza? Noi abbiamo purtroppo avuto un periodo dal 2013 in poi in cui stanchi del binomio polarizzato destra-sinistra tu hai avuto una terza forza che è emessa e il punto è che ha svenduto l'oro colato che era della politica cioè la competenza. E quando tu svendi la competenza in nome dello sventolare da un balcone nella tesserina dicendo abbiamo abolito la povertà la povertà non l'hai abolita la competenza non ce l'hai e hai distrutto un modo di fare politica e di occuparsi della gente. 331-78-53-555 Davide Borghi è qui se volete iscrivergli è qua potete fare le domande se siete poi di Municivo 4 basta che mi chiedete della 73 che ne abbiamo già parlato mi raccomando quello no quello no per il resto siamo qua andiamo avanti Annalisa, ragazza sola Calcutta due minuti due minuti che dura sempre più di due minuti ve lo sappiamo bene due minuti e poi la chiami se fa la canzone che chiama due minuti fa la durare due minuti Calcutta no invece fa la canzone che chiama due minuti la fa durare tre minuti o qualcosa allora un po' di serietà sta la serietà e la competenza che porta invece il nostro ospite Davide Borghi consigliere del Municipio 4 diciamo sono tanti temi sul territorio importanti io poi non so se possiamo dire non abbiamo parlato fuori onda però so che per fare una cosa importante domani volevo sapere dimmi solo se possiamo parlarne sì assolutamente assolutamente perché mi hai raccontato un paio di cose domani puoi dirlo tu dove vai io domani vado al Polichinico a donare il sangue ok sì è una cosa che ho scoperto andando al liceo vennero due una ragazza e un ragazzo e ci dissero che si poteva donare il sangue io rimase un po' così perché mi disse ma il mio sangue poi come faccio senza poi ho scoperto che invece c'è la possibilità che si rigeneri quindi ormai da quando la legge me lo permette cioè dai 18 anni ogni tre mesi posso nel senso come peso come età essendo uomo ho la possibilità ci sei la cosa interessante che mi dicevi che poi tu hai fatto un altro tipo di donazione che si può fare una sola volta nella vita in Italia che però se si sapesse un po' di più prima di tutto non è così invasiva come si immagina non ti infilano aghi nella schiena non so perché abbiamo questa idea spiega bene tu il seringone no è la donazione del midollo osseo anche lì l'ho scoperta perché andavo a donare il sangue e c'era un foglietto di ADMO l'associazione donatore del midollo osseo è una donazione fondamentale nel senso che salvi la vita e la vita posso dire mi ha dato l'opportunità di donare la vita nel senso che tu ti iscrivi al registro donatore nazionale in questo modo ti tipizzano cioè ti mettono in questo registro con un prevo del sangue e poi rimani lì aspetti mi sono iscritto a 19-20 anni poi mi hanno chiamato un anno fa perché il dicembre 22 mi hanno detto guarda c'è un possibile donatore tu te la senti ancora va bene proviamo e abbiamo fatto vari esami quindi sono controlli su controlli ecodome varie tipologie di controlli e poi arriva il giorno della donazione che è semplicemente un prevo del sangue che dura 4 ore cioè nel senso tu hai l'ago che da un braccio ti preleva il sangue e poi ti ridanno dall'altra parte quello che a loro non serve come fanno a stimolare la produzione delle cellule del midollo con un farmaco fai delle punture come fossero quella della spalla per la vaccinazione anti-covid e le fai diciamo a una distanza un totto ore per i giorni prima i 4-5 giorni prima e arrivi lì e con questa produzione sovrastimolata tu riesci a donare tante tante cellule del midollo fatelo fatelo perché è un'opportunità veramente io ho avuto questo dono non lo so non me l'aspettavo quando mi hanno chiamato sono rimasto un po' così caspita però è importante nel senso che salvi una vita non so chi sia il ricevente in quel caso ti chiamano perché c'è un ricevente compatibile quindi sai già che il tuo midollo andrà a salvare la vita qualcuno con l'uno su centomila è per questo che dico iscrivetevi perché è fondamentale cioè più siamo più riusciamo a salvare vite ed è importante perché perché veramente la donazione è gratuita è qualcosa che ti rimane e poi so che non era un cittadino del nostro paese sono contento sono forse ancora più contento non so non so nemmeno cosa dire sì in Europa da quanto capito in Europa è un uomo più o meno che ha 30 anni è più o meno il mio peso perché deve essere compatibile però ecco andate a donare è fondamentale interessante che il tuo midollo non sia rimasto in Italia ma sia andato all'estero perché tu sei uno molto proiettato verso gli esteri tu studi anche per cercare un giorno di fare una carriera diciamo verso anche un'internazionalità sì relazioni internazionali mi laureo adesso ho mandato l'attesa in storia delle relazioni internazionali qualche giorno fa e mi laureo a luglio quindi sì non vale che il tuo midollo sia già andato avanti non ti hanno qualche credito in più non te lo danno no quello non me lo danno però il credito di aver salvato una vita è forse più bello chiarissimo chiarissimo ecco la tua interesse per la politica è palese diciamo così ma da dove nasce come nasce questo interesse relazioni internazionali politica territoriale ho iniziato a leggere il giornale in terza liceo nel senso che sono passato ero al liceo scientifico poi mi sono reso conto di avere interessi un po' più marcati nella parte umanistica e sono passato a quello che è il liceo Carducci vicino al passare l'ho letto a Milano e lì siccome mio nonno aveva l'abbonamento al Corriere della Sera ho iniziato un po' a darci un'occhiata me lo leggevo in intervallo non ti tornavo eccetera poi piano piano non ti picchiavano i tuoi compagni no ti dirò di più quando finivano i compiti in classe e tu avevi il giornale sul banco a differenza del telefono che chiaramente ti avrebbero sequestrato il giornale no tu leggevi come leggessi un libro comunque dopo poi abbiamo avuto diciamo la maturità fatta durante il covid è stato un periodo complicato però in quel periodo perché era l'ottobre 2020 settembre 2020 volevo iscrivermi a un partito cioè volevo condividere con altre persone dei valori che per me fossero fondamentali scusate tutti i valori che girano proprio il PD no scherzo è una battuta dico sempre che condivido i valori e gli ideali che ci sono nello statuto PD fondativo quindi del 2007 che poi ci siano avvicendati otto segretari che il mondo si è cambiato l'Italia anche quello molto di sinistra come dichiarazione complimenti mi piace io sono tesserato a quello quindi poi ecco progressivamente ho seguito le attività del circolo appunto dove sono iscritto a Milano e poi mi hanno proposto nel luglio del 21 di candidarmi in municipio il mio circolo è su municipio 3 lì poi abito in 4 quindi mi proposito di candidarmi lì ho accettato ci ho pensato un attimo ho detto va bene proviamo è andata bene andiamo avanti ti dico le frasi che si dicono in questi casi il circolo però sono tutti vecchi non so cosa farci non è vero perché a 02 PD dove sono iscritto gli anni al 30 sono tanti sì poi ci sono anche over 65 ma un buon mix che coniughi esperienza e freschezza è la chiave cioè noi lo vediamo in municipio 4 l'età media del PD è 40 anni quindi diciamo che è altissimo effettivamente no ci sono circoli che avevo c'era un circolo di qualche anno fa che l'età media era 65 media a 02 non lo so però chi governa il municipio 4 del PD ha l'età media di 40 anni e quindi vuol dire che se rigeneri la politica non se rottami attenzione ma se rigeneri e se metti insieme le parti con esperienza le parti più giovani con freschezza vinci vince lo stiamo vedendo appunto la differenza non è male quella tra rottamare e rigenerare effettivamente interessante però si dice che anche se sfatiamo questi miti non so se sfatiamo cioè si vabbè si vede che sei il PD sei vecchio dentro com'è sta cosa siete dei giovani vecchi sarò giovane fuori non lo so siete dei giovani vecchi siete già vecchi ma no non siamo vecchi diciamo che abbiamo una visione del mondo che è legata a una storia che è legata a una cultura politica il PD l'unione di due famiglie che per anni sono state in contrasto che poi si sono avvicinate con il compromesso storico parlo della DC e del PC cioè c'è una cultura profonda noi non siamo un partito suonato nel 2009 svendolando la bandiera dell'abbiamo abolito la povertà noi abbiamo una storia e la storia va difesa ce l'hai su con lo movimento no non ce l'ho su però quando svendi la competenza e svendi l'oro della politica c'è qualche problema l'uno vale uno è molto bello è molto sincero ma se tu diventi parlamentare con 158 voti su una piattaforma è un problema perché dov'è il radicamento del territorio dov'è l'ascolto dei cittadini dov'è la competenza maturata sul campo se vogliamo seguire meglio quello che fai dove possiamo trovare qualche informazione come possiamo seguire la tua ma guarda allora azione politica sì allora beh intanto diciamo quello che stiamo realizzando lo trovate mio e della maggioranza vabbè io ho la pagina instagram che è davide underscore natio underscore borghi e lì trovate un po' quello su cui stiamo lavorando poi la mia mail è davide1.borghi chiocciolacomune.milano.it lì qualsiasi segnalazione non fosse anche di municipio 4 perché poi avendo diciamo contatti negli altri municipi con gli altri amministratori è un attimo per noi se non si è già scritto all'amministratore contattarlo e dire guarda c'è questa necessità e poi mi trovate in municipio a tutte le sedute del consiglio in commissione seguo le commissioni sono online come vice della verde mobilità faremo una commissione lunedì congiunta con municipio 3 su quello che sai che poi ha fatto per la sosta irregolare quindi andremo ad analizzare tutto quello che c'è di abusivo perché si dice irregolare ma per me è abusivo e occupa le radici degli alberi occupa i marciapiedi occupa lo spazio pubblico che i bambini e le bambine non possono usare su cui gli anziani con disabilità che magari vanno in carrozzina non possono passare perché c'è un'auto e quindi analizzeremo quello poi martedì invece sto preparando una commissione su tre incroci pericolosi che ci hanno segnalato i cittadini che raccogliamo in un documento e che porteremo poi in consiglio 8 febbraio per votarlo e quindi noi andiamo avanti ecco non ci fermiamo non ti chiedo chi del tuo partito ti sta più simpatico perché tanto non me lo dici ma invece di altri consiglieri dell'opposizione c'è qualcuno che ti trovi bene? sì guarda se noi parliamo di competenza e non solo di valori anche se poi chiaramente sono distanti dai miei ma ti posso dire anche i nomi Davide Rocca con cui lui è di Fratelli d'Italia è un ragazzo che è stato il secondo giro in municipio è stato presidente della commissione di sicurezza lo scorso lui si occupa della gente tu pensa c'è qualcuno dall'altra parte senza demonizzarlo che si occupa della gente e io non ho nessun problema a dirlo nel senso che poi c'è una visione di ideali politiche di ambientamento opposta però sulle questioni territoriali che può essere lui che va a riverniciare i muri di Calvairate con le persone a me che dicono durante una festa guarda non è illuminato il parco giochi qui e quindi ci attiviamo e mettiamo il palo della luce che mancava da qualche settimana ma il parco resta del buono ognuno fa la sua parte ed è una gara a rialzo cioè il compromesso lo vai a mettere sempre a rialzo continua ad alzare la competenza le capacità e vince il più bravo non quello che fa più schifo noi dobbiamo dirlo alle persone che la politica non fa schifo è che chi lavora per le persone lo fa con l'obiettivo di alzare la qualità ecco e non alzare la polemica e quella sterile soprattutto chiarissimo allora io ti ringrazio davvero tantissimo per essere qui con noi ospite quest'oggi torna pure sul territorio a fare il tuo lavoro che da quanto sentiamo riesce a fare bene saluteci anche gli altri consiglieri loro anche quelli dell'opposizione che fanno bene il proprio lavoro insomma dai ogni tanto un po' di speranza ce la date pensare che magari la politica riesca a fare qualcosa di buono ma dai un po' di speranza ce l'abbiamo allora grazie mille Davide grazie a te buona giornata andiamo avanti con la musica adesso è un pezzetto è un pezzone questo ah è un pezzone loro sono Yerosmith con Ragdoll e poi torniamo qui per salutarci sulla nostra sigla Crystal Radio Good Morning Milano a fra poco Yerosmith